Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. È nata con un segno sul viso che la rende una supereroina. È stato il caso di Natalie Jackson, anche se fortunatamente non soffre di alcuna malattia, è nata con un segno molto scuro e prominente sul viso. La notizia ha lasciato perplessi i suoi genitori, che temevano che avrebbe sviluppato qualche condizione associata alla macchia e anche il rifiuto di sua figlia in futuro a causa della sua condizione molto diversa. Natalia è nata quattro mesi fa, quel giorno i medici hanno detto ai genitori che la loro figlia era completamente sana, ma aveva un segno sul viso che sarebbe cresciuto con lei. Quando Natalia aveva una settimana, l'hanno portata da un oftalmologo per verificare che il suo segno non stesse causando danni alla sua vista, hanno consultato altri specialisti e hanno stabilito che il punto potrebbe aumentare il suo rischio di contrarre il melanoma, ma finora tutto va bene e sapranno come adottare misure preventive. Quando hanno visto gli occhi teneri e il sorriso della loro bambina, niente ha potuto oscurare la loro gioia di averla tra le braccia. Hanno condiviso le loro foto e le reazioni nelle reti sono state immediate, Natalia ha ricevuto rapidamente il soprannome di supereroina perché la sua voglia è simile alle maschere usate da Batman e Robin. Nonostante i genitori riconoscano che potrebbe dover superare difficoltà in futuro, hanno deciso di non rimuovere il suo marchio e accettare il suo aspetto così com'è. Il suo marchio significa che sarà forte indipendentemente da ciò che la vita le riserva, ha detto la madre della ragazza. La gente ci dice che la sua voglia è incredibile e che è bellissima, non potremmo essere più d'accordo, hanno detto i genitori ai media. Natalia ha due fratelli maggiori di 4 e 7 anni che sono felici di avere un supereroe in casa e sono pronti a sostenerla e difenderla quando Nat ha bisogno. Le diremo sempre che il suo marchio fa parte di ciò che è. Le persone sapranno sempre quanto sia speciale e quanto sia fantastico dentro e fuori, ha detto la madre di Natalia. Il suo viso tenero e bello ci ricorda che dobbiamo imparare a guardare con gli occhi del cuore, sapendo che le condizioni speciali che fanno sembrare diverse alcune persone non sono un motivo per sottovalutarne il valore. Questa supereroina alla sua giovane età sta già insegnando al mondo una lezione preziosa e la sua missione speciale continuerà sicuramente per molti anni. Condividi la sua storia stimolante, molante. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni, dizioni.